Musica 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 Chi va deve essere sicuramente Non possiamo permettere di fare le spalle Un bosco, un bosco che sfuggirà gli occhi dei prof Io e Alexander vorremmo fare parte della della spedizione Musica 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 Finora loro, alla fine, non sono stati Lasciam per noi Musica 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 Chi è? Chi è? Un ospire, un italiano. Qui cortesia non ne fate nessuno. Qui siamo. Saresti più gentile da chiedere ad Alexander di venire per la cerimonia della spada. Fai venire anche alta. E' ridurpo a capirlo. Chi stile? Usarlo. Noi combattiamo un'altra guerra. Noi dobbiamo combattere una guerra che libererà tutti. Noi. 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 Noi.